In questa puntata, strage di Viareggio, solidarietà ai familiari delle vittime. Scorie nucleari in Toscana, mozione unanime per dire no. Poste, garantire l'apertura degli uffici marginali. VICINANZA E SOLIDARIETÀ La scelta di votare tutti insieme un atto in questa direzione, un atto che esprima preoccupazione per quello che è accaduto a Roma negli scorsi giorni, è segno di intelligenza, è segno di capacità da parte del Consiglio regionale di sapere intercettare il sentire dei cittadini. Quindi noi con questa mozione abbiamo chiesto alla Giunta di attivarsi verso il Governo, verso la Conferenza delle Regioni, al fine di favorire una riflessione circa l'istituto della prescrizione per ideati gravi, quelli colposi, come è avvenuto a Viareggio. È una scelta forte, non era scontata che il Consiglio regionale facesse questa scelta, ma noi crediamo che oggi la prima cosa che noi dobbiamo è vicinanza a quelle famiglie che stanno vivendo un dolore grande come quello della morte dei loro cari. Allora con questo atto noi esprimiamo vicinanza a tutte le famiglie delle vittime e gli diciamo che l'ente regione è al loro fianco. L'Aula ha approvato all'unanimità una mozione per esprimere netta contrarietà rispetto all'individuazione da parte di Sogin del territorio tra i comuni di Pienza Trequanda in provincia di Siena e Campagnatico in provincia di Grosseto, tra le possibili aree potenzialmente idonee ad ospitare i rifiuti radioattivi italiani di media e bassa radioattività. È un segnale forte di netta contrarietà, noi comprendiamo che quello sia un problema che va risolto ma non si può risolvere andando a compromettere, andando ad intaccare uno dei posti che sono più belli dal punto di vista paesaggistico, storico, naturalistico, ambientale. Quindi con delle penalizzazioni che ne deriverebbero anche dal punto di vista turistico e dal punto di vista economico. La Val d'Orcia, il Comune di Campagnatico, Pienza, Trequanda sono veramente delle perle della Toscana, dell'Italia e del mondo. hanno un valore che è riconosciuto dall'UNESCO, pensiamo alla Val d'Orcia. Hanno veramente un paesaggio ed un valore storico-culturale enorme. Quindi noi pensiamo che questa previsione vada contrastata. Questo è un tema estremamente importante perché si rischia di fare della facile demagogia che non va fatta. La logica del non nel mio giardino è un qualcosa che serve a poco, serve quasi a niente. Del resto però è un tema di dimensioni nazionali, andrebbe affrontato con grande senso di responsabilità. Perché oggi noi ci preoccupiamo di dover dislocare dei residui nucleari che non ci dimentichiamo già esistono sul nostro territorio. Non è che questi residui nucleari arrivano da Marte. Detto questo, che è il problema reale su cui le istituzioni dovrebbero essere chiamate ad esprimersi, poi resta la battaglia perché nei siti individuati dalla Sogin arrivano due siti che sono uno un patrimonio mondiale dell'UNESCO, l'altro una delle zone naturali più belle della Toscana, è ovvio che sia inaccettabile di poter utilizzare queste nostre risorse bellissime come deposito di scorie nucleari. Sì, avevamo presentato una mozione noi, ma l'avevano presentata anche altri gruppi consigliari, quindi abbiamo deciso di fare un testo condiviso per esprimere la nostra contrarietà e anche per dare supporto ai comuni che purtroppo sono stati individuati come sedi per poter evitare l'arrivo di queste scorie. Il Consiglio regionale si esprime in maniera univoca e quindi pensiamo che ora stia il Presidente Gianni andare giù con la voce di tutto il Consiglio regionale ad esprimere una contrarietà che sia forte, decisa e netta perché i nostri territori, soprattutto quelli in oggetto, vanno valorizzati, vanno supportati e non hanno assolutamente bisogno di vedersi sopraffare da decisioni prese a Roma e mai concordate o concertate con i territori stessi. Con forza il Consiglio regionale della Toscana ha dato mandato al proprio Governatore Eugenio Gianni di rappresentarci per dire che la Toscana non accetterà mai il deposito nazionale di scorie radiattive e nucleari. Per me personalmente una vittoria importante per essere stato il primo a denunciare tutto questo e ringrazio tutte le forze politiche che hanno voluto condividere un atto unitario approvato dal Consiglio regionale. Io ritengo che la Toscana non sia proprio morfologicamente adatta ad ospitare un sito di deposito nazionale per le scorie nucleari, soprattutto addirittura in quei luoghi che vengono identificati dalla carta KNAPI, perché sono luoghi non solo vicinissimi a siti dichiarati patrimonio mondiale dell'umanità da UNESCO, ma hanno anche una vocazione turistica e agroalimentare di pregio. Approvata all'unanimità, la mozione è presentata da Marco Casucci che chiede alla Giunta di portare avanti tutte le opportune iniziative sul livello del servizio postale in Toscana al fine di garantire il mantenimento degli uffici postali nelle aree marginali, oggetto del piano aziendale di ridimensionamento. Diciamo che la notizia è che ancora una volta la Regione Toscana si attiverà nei confronti di poste italiane S.P.A., perché non accettiamo i disagi che vengono da quel piano di riorganizzazione dell'azienda, che di fatto contrasta con la natura stessa del servizio postale, che è servizio pubblico ed universale. Troppi cittadini in questi anni veramente sono stati penalizzati da un piano che va a colpire in particolare le aree marginali, le aree periferiche, i piccoli centri, i centri montani. Noi vorremmo una Toscana che veramente fosse tutta in condizione di offrire servizi adeguati ai propri cittadini, in particolare servizi postali che sono così importanti. Quindi ancora una volta la Regione Toscana si attiverà nei confronti di poste italiane S.P.A., però lasciatemi dire veramente questo, che occorrono fatti. I cittadini, le parole dei politici sono abbastanza stanchi. In questi anni ho presentato più mozioni sul tema della consegna giorni alterni. Cosa è stato poi fatto? Basta con queste logiche solo di profitto da parte delle aziende. I nostri cittadini, in particolare gli anziani, devono essere tutelati e occorrono appunto fatti, occorre che la politica possa davvero cambiare le cose. La Commissione Istruzione, Formazione, Beni e Attività Culturali ha espresso parere positivo all'unanimità sulle misure di sostegno ai lavoratori autonomi dello spettacolo a seguito dell'emergenza Covid-19. Stanziamento di un milione di euro per contributi una tantum fino a un massimo di 2.000 euro ciascuno. Parere favorevole a maggioranza in Commissione Ambiente al bilancio di esercizio 2019 del Parco regionale della Maremma, che si chiude con un utile pari a 519,09 euro. Via libera sempre a maggioranza al bilancio di esercizio 2019 del Parco regionale delle Alpi Apuane, che chiude con un utile di 672,78 euro. Sostegno economico di 250.000 euro una tantum alle associazioni Proloco della Toscana. La proposta di legge di iniziativa dell'Ufficio di Presidenza è stata licenziata all'unanimità in Commissione sviluppo economico. Approvata in Commissione anche la proposta di legge che stanzia 200.000 euro per la categoria dei maestri di sci della Toscana. Il sostegno economico di 800 euro una tantum per il 2020 andrà ad ogni maestro di sci operante in modo continuativo sul territorio toscano, iscritto all'albo professionale tenuto dal Collegio regionale dei maestri di sci. Il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, ha consegnato il gonfalone d'argento a Giulio De Angeli, il neuroscienziato 25enne plurilaureato alla Scuola Superiore Sant'Anna e all'Università degli Studi di Pisa. È un significato profondo, io sono onoratissimo di essere qui e io spero che possa essere un messaggio per i giovani. Tengo a precisare questo punto. Per me il mio mito di studente quando arrivai a Pisa era Carlo Maria Rosati, il primo studente che fece la doppia laurea in medicina e ingegneria biomedica all'Università di Pisa e a Sant'Anna e per me lui era un mito, è stato davvero, ed è tuttora mio mito, è un precursore, tra l'altro toscano anche lui. Per me Rosati ha rappresentato un'ispirazione formidabile. La mia massima speranza è che il mio caso e la risonanza che fortunatamente ha avuto possa fungere per altri studenti in maniera simile a quello che Rosati è stato per me, che possa ispirare tanti giovani, di nuovo non per fare il record, ma perché la multidisciplinarietà è la maniera in cui la scienza di oggi funziona e dobbiamo abbracciare questa mentalità. È l'unica strategia per poter fare passi avanti verso problemi complessi come quello delle neurodegenerazioni. Io non voglio essere un cervello in fuga, però bisogna chiarire una cosa. La fuga di cervelli non sta nell'andare all'estero perché il mestiere del ricercatore è internazionale, per sua natura. È sbagliato l'inbreeding, cioè rimanere sempre nello stesso posto. Però questo non significa che non esista. Esiste come la tragedia della fuga di cervelli e sta nel recidere i rapporti con l'Italia. Io sono orgoglioso che Giulio abbia accettato il nostro invito. Non è casuale la scelta. Questo è il primo gonfalone d'argento che mettiamo a disposizione e che doniamo a persone che possono rappresentare la Toscana nel mondo. È una scelta per me fortemente simbolica. È un modo per dirgli grazie, grazie di aver scelto la nostra Toscana. È un modo anche per impegnarlo a non recidere quel cordone, come dicevi prima, tra il luogo della formazione e il luogo della ricerca continua. Questa è l'idea di Toscana che noi abbiamo in mente. Una terra in grado di porsi un obiettivo ancora più grande. Noi in questi anni abbiamo lavorato per sostenere i ragazzi più giovani con un progetto chiamato Giovani sì. Noi dobbiamo lavorare in questa legislatura per svilupparle un altro. Giovani qui. Ecco Giulio, tu sei uno di quei giovani che può insegnare a tanti tuoi coetanei un metodo che può dare una speranza rispetto ad un impegno collettivo. Ne abbiamo parlato prima. Noi vogliamo che in Toscana ci sia da una parte la capacità di attrarre i talenti, l'eccellenza e dall'altro di sostenere il diritto allo studio per tante persone che fanno più fatica e hanno più difficoltà. Giulio diceva per me questi anni in cui ha preso cinque lauree tutte con 110 e lode per lui è stata una passeggiata. Per tanti ragazzi invece è anche un percorso di fatica. Ecco io credo che noi dobbiamo saper tenere insieme questo. Allora io con questo conferimento del gonfalone voglio dire grazie ai tanti ragazzi e alle tante ragazze che come Giulio ma anche come me hanno scelto la Toscana per venire a studiare. Un modo per non recidere quel cordone tra chi ha studiato qui e chi va a svolgere la sua attività di lavoro, di ricerca da un'altra parte. Io chiederò a Giulio, gliel'ho chiesto in privato ma voglio farlo anche pubblicamente. Come sapete ho lanciato l'idea di mettere in piedi un luogo, un pensatoio dove disegnare la fotografia della Toscana del 2050 e vorrei che Giulio coordinasse dieci ragazze e dieci ragazzi e mettesse insieme in questo gruppo i dieci ragazzi e ragazzi per disegnare quella che sarà la Toscana del 2050. Questo può farlo anche lavorando da Cambridge, approfondendo, visto che le sue giornate, come dire, mi pare di capire che uno spazio ce l'abbia da poter dedicare anche a noi e questo è un segno di quella che è l'idea della Toscana che noi abbiamo in mente, l'idea di una terra che vuole attirare i giovani e questo palazzo deve essere sempre più un ragazzo, è un palazzo aperto alle tante ragazze, ai tanti ragazzi che insieme a noi vogliono scommettere su un futuro migliore e diverso. Quindi grazie ancora Giulio, grazie delle parole che hai usato oggi, grazie degli studi che farai perché credo che un futuro migliore si può costruire solamente cercando di trovare soluzioni semplici a problemi complessi ed è quello che te in questo momento stai facendo. Grazie